Sto vedendo cose, la tempesta è strana qua, qua sta esplodendo qualcosa, c'è un effetto strano, aiuto, esploso tutto, non mi renderizza più nulla, esploso il doomsday, ah no, si è esploso tutto, i tubi che erano qua sotto sono diventati così delle colonne tipo a chiappa tempesta, questo è il doomsday device ed è molto bello, ma molto, qua sotto c'è l'acqua giustamente, cosa vuole fare questo doomsday device? Ha rotto l'agenzia completamente, sta prendendo l'energia dai tubi, balliamo un pochino, Vediamo cosa fa, ma che, cosa sta succedendo, cosa sono? Che gravità c'è? Ma tipo, ma sto fluttuando all'infinito, è normale, stiamo tutti fluttuando all'infinito, aiuto, sta prendendo tutta l'energia dai vari tubi, dalle varie colonne, può succedere qualcosa di grosso, ma di molto grosso, Che succede? Sta allargandosi con la tempesta? Oh cavolo, oh cavolo, tutto bianco? Schermo bianco? Eh? Ma? Sono uno spettro? Perché sono uno spettro? What? Non posso uscire da qua? Era un lavoratore, era tipo qualcuno, robe strane, problemi psicologici, ma va bene, era tipo uno spettro, cioè nel senso era uno che lavorava per gli spettri, No ma, perché mi è finito l'effetto? Non è giusto? No ma mi è finito l'effetto? Ah no, è finito tutti, eh? Si sta sovraccaricando? Cosa succede? Oh cavolo, di nuovo? Di nuovo che si inizia a fluttuare? Cioè è tipo riapparso, stiamo di nuovo fluttuando verso l'alto Un po' è sceso il volante, va bene Che bello però da vedere, veramente, a livello di grafica si stanno superando un bot negli eventi Cosa è sta roba? Cosa succede? Mi sa che vediamo le ombre ora O forse sta finendo No, è finito l'evento È veramente finito così Si sta riappacificando tutto È ritornata la partita C'è sto effetto arcobalenoso nell'aria ma è tornata la partita così Che capro mi sta succedendo alla Switch? Era tipo glitchata per un attimo C'è l'arcobaleno Di nuovo i glitch Ancora i glitch Allora, spero sia una roba del gioco perché se no è un brutto segno L'arcobaleno come nello scorso capitolo No, ok, credo sia una cosa del gioco proprio Non è finito l'evento? Al telefono Siamo a Genis 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 Imposta l'attivatore di risonanza 7.2 Ora per favore Sì, proprio ora Va bene Aspetta Un momento Non è solo una tempesta E questo cosa significa? Deve esserci una correlazione con i dub Non avremmo mai veduto prevedere una reazione What? Oh my god Ma ora Cioè, è finito? O si continua? O continua? Questo è un grand bell'evento Credo uno tra i migliori Veramente Si sono Ho capito perché c'è stato quel ritardo Due volte tra l'altro L'acqua Che cappero L'oceano Uno squalo Gli squali Gli squali della stagione 3 Raga C'è uno squalo Ho visto lo squalo Per un attimo l'ho visto Qualche secondo fa c'era Quindi Stanno cercando di tenere l'acqua? Ciao Jonesy Ah Ma che? Ma come? Aspetta 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 Riesci Riesci a sentire Si? Jonesy? Vuol dire che ci sarà nella prossima stagione Jonesy? Inversione così? Troppo forte sta roba Veramente No Migliore evento Migliore evento Secondo me Ditemi nei commenti Cosa ne pensate E mo? Ci stanno portando in quel buco Ma è la mappa di Fortnite O meglio È l'agenzia Noi siamo sopra la mappa Si è alzato tutto quanto Questo probabilmente è il monte Ma che cosa? Ma è ripartita la partita È finito l'evento così? Con tutta l'acqua attorno? Cosa? Cosa? C'è tutto l'oceano C'è tutta l'acqua Tra l'altro È pieno di pesci È pieno di pesci Comunque È come se C'è tipo la tempesta Mi fa danno Però ci posso nuotare Che roba strana Mi fa danno la mappa di pesci Qua danno la mappa di pesci Grazie a tutti.